ciao a tutti ragazzi sono jack one e questa sera giochiamo a un qualcosa di diverso nel senso che niente horror niente rage giochiamo a speedcat spectrum mi hanno da mi hanno mandato un messaggio c'era un messaggio prima della prima della sgamata principale dove mi diceva che se per caso e fossimo soggetti a epilessia forse è meglio non giocare a sta cosa per cui immagino già che roba da trip mentale sarà per cui tranqui signori ok signori miei cazzo questo sarà tutto così e siamo questo gattino poche parole sarebbe anche una bella cosa saltare veloce buono buono signori buonasera siamo questo gatto in preda a una crisi epiletica praticamente perché guardate che roba potremmo anche potresti anche andare un pelo più veloce ok monetine come sonic cosa ho preso le bombe merda sono morto da coglione bisogna riprovarci assolutamente micio corri però cristo dai figa spero che ci siano i jackpoint in sto gioco vero ok c'è una cosa impossibile comunque va bene non sto capendo perché crepo all'inizio con calma micio mio con calma gattino andiamo piano ti prego non c'era scritto che era un rage sto qua buttei non c'era scritto che era un rage per cui con calma adesso micio vai a piano bravo saltino ok 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 merda ho perso il il quadratino del super mario lì vecchio mio ho perso un altro aiuto come slowdown a parte che comunque vai lento vecchio vai devi andare un po più veloce sei lento come la fame cazzo ok guardate che signori siamo un gattino pro pro cat prot nostro record attualmente 844 il mouse in mezzo le palle come al solito signori queste musica si comunque psichedelico bomba buttei perché se ti soffermi a guardare cazzo se ti soffermi a guardare i colori di sfondo qua ok perché non ho preso le monete scusa e anche box perché sono un coglione magari dai micio salta salta bene cazzo salta bene vediamo cosa prendo siiii figa ho preso il moon jump dai ok adesso dobbiamo dobbiamo morire tipo no poche volte dobbiamo morire perché ogni volta puttei è una è una noia che non ti dico non devo morire adesso non muore dall'inizio ti prego faccio una figura di merda dai mi fa venire il mal di testa signori non voglio che questo sia un rage game perché la mia rabbia ve la volevo scatenare su un altro rage game non su questo rage game che bello bel gioco guarda questo sarà sicuramente il mio video migliore orcomondo beccio ti viene veramente la botta dopo queste cose vero sono un coglione perché già non sono capace di giocare ok uno due salta tre salta quattro salta minchia minchia cinque salta cinque salta bravo bravo miccio bravo miccio dai dai che sto giro lo sento dai che sto giro stiamo andando bene ok picchia per tre per due aiuto con aiuto con le allucinazioni cazzo voglio un checkpoint datemi un checkpoint per piacere mi date un checkpoint buttei questa è record ma voglio un checkpoint perché se muoio qua ricomincio da capo sono bestemmie signori che ovviamente taglierò oh non morire adesso non mi morire adesso beccio c'è non c'è un checkpoint signori questo è peggio di i wanna be the guy qua non ci sono i checkpoint e che senso ha sto gioco se non c'è un checkpoint a un certo punto qualcuno me lo spiega cazzo no no il moon jump col cazzo merda me l'ha già attivato lui signori abbiamo il moon jump per la bellezza di 10 secondi sei ancora cinque beh comunque ci fa comodo moon jump è sempre una cosa bella ok siamo tornati i gatti normali e stiamo andando sempre più veloci cristo dai beh ciò mi serve un checkpoint più che altro è quello cioè allora no no va bene dai non ha senso sta cosa perché il gatto non è c'è vabbè gatto di merda cazzo già 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 non bastava la capra puttana evan dicappata anche il gatto del cazzo allora dai dai cerchieto dai anello di cipolla bravo un altro anello di cipolla ok sta dritto sta dritto lo stiamo fartroiate c'è no 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 non si può fare signori c'è se non c'è un checkpoint non ha senso non ha senso se non c'è un checkpoint non ha senso cazzo vai vecchio vai micio micio mio ho fatto una cazzata pagherei sto gioco se 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 ci fosse la possibilità di fare uno skip dei primi 100 metri che fai cazzo perché è in agonia vederti camminare dai con calma signori ce la facciamo ce la facciamo ce la facciamo jackpot ok ho preso un po' di soldi ho preso un po' di soldi con calma con calma con calma l'ho preso ok cosa ho preso slowdown cosa vuol dire che cazzo vuol dire slowdown si no so cosa vuol dire slowdown però non so cosa sia non so quale sia l'effetto l'effetto sul nostro amico felino bombe butei bello con le bombe bello con le bombe vecchio mi gustano le bombe mi gustano le bombe mi gustano le bombe non mi gusta però morire che dopo la fine carepo sempre in quel in quelle trap cioè vabbè perché ho tirato giù una roba del genere cioè non ha senso sto gioco non ha senso non ti diverti con sto gioco non ti diverti ah 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 no ah 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 un cazzo optimamente no abbiamo fatto 166 salti così nella serie benessere time che bello basta non fare puttanate e cercare sempre di essere positivi e cercare sempre che culo del merda che govuo cercare sempre di trovare il lato bello delle cose e soprattutto cercare di saltare bene cazzo salta bene gatti eh vabbè qua mi sono perso l'altra parte la paura di sbagliare è tanta merda merda si vabbè tranqui faccio anche i salti quando non serve ok aiuto cazzo 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 gatto 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 io sto andando avanti ma non sto facendo record e devo stare dai gatto cazzo su con calma adesso prendiamo bene gli anelli di cipolla qua dai bravo adesso prendiamo qua abbiamo messato uno che esserciava il busto abbiamo già il busto signori che bella cosa ok 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 tre bombe tre bombe tre bombe tre bombe più di tre bombe tre bombe arrivo 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 un attimo salta bene salta gatto salta bene cazzo bravo gatto dai che for record fermo 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 gatto non fa stronzate perché se muori adesso ok 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 non ci credo cazzo non ci credo butei comunque non esco ora perché salta bene salta bene salta bene moon jump moon jump moon jump vuol dire che saltiamo in alto tanto in alto calma ok 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 dai 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 tanto è record signori il record della pista spero di spero che ci sia la fine di sto schema è troppo veloce è troppo veloce cazzo dai è troppo guarda quanto corre veloce guarda guarda bombe abbiamo le bombe che bella cosa vabbè questa le sta buttavia praticamente tranquilli con calma gatto gatto sta sta là sono arrivato ad un trip che non ce la facevo più per cui basta speed cut spectrum non ti giocherò mai più vi lascio il link in descrizione se volete rovinarvi la vista almeno lo provate e dopo vabbè tranquilli ma per questo gioco io proprio sono a posto non così ma così sono a posto basta ok allora signori per speed cut spectrum io sono a posto così se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su condividetelo iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi